ciao a tutti amici bentornati oggi facciamo una ricetta veramente veramente troppo facile però ha chiesto un'amica il suo cibo preferito e quindi non posso dire di no andiamo a fare le fragole con panna indovinate quali sono gli ingredienti fragole panna come si fa la panna montata nel frullatore mettiamo latte burro e zucchero e frulliamo intanto che frulla voi potete iscrivervi sul canale cliccare sulla campanella mettere un like chiedere nei commenti una ricetta le solite cose una volta che abbiamo la panna ovviamente fragole e panna faranno la nostra ricetta ne mettiamo facciamole tutte e tre insieme così mi finisco la panna che ho fatto tanto non ho altro modo di usarlo in questo momento così poi le regalo quindi fragole panna montata e abbiamo le nostre fragole con panna frutta dolci come come categorie quindi preparatele facilmente quando volete video brevissimo mi dispiace la ricetta è così facile quindi ci vediamo così ciao ciao